e dopo un mese e mezzo ci siamo e sì, 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 e ne arrivavo il giorno per forza, sì, doveva arrivare prima o poi, doveva arrivare innanzitutto ragazzi, vi dico, il signor Vibe, vibe, insomma come voi volete chiamarlo ha azzeccato il risultato della partita scorsa quindi Fiorentina-Venezia 1-0 di corto muso poi siamo un tema per l'appunto oggi con Torreira, bravissimo, complimenti io ragazzi, boh, vi vedo se voi mi volete fare un pronostico se voi mi volete fare un pronostico più primo marcatore se ve la sentite, se ve la sentite così perché, boh, io, chiun ce la fa, chiun ce la fa a farvelo o io ragazzi ci aspetta la partita che deciderà alla fine la, non dico la nostra stagione ma che comunque ci farà prendere una svolta importante quindi se concentrarci del tutto sul campionato oppure appunto concentrarci anche per un'ipotetica finale ragazzi, andiamo a Torino contro la Juventus quest'anno le partite con la Juve sono state una cosa una merda perché alla fine entrambe, non dico dominate quella all'andata in campionato a Torino dove appunto ci fu la beffa al 91esimo con il cross in mezzo di quadrato e alla fine appunto il gol è stato con la deviazione di birra che è stato invalidato a lui che lì comunque avevi giocato bene non estremamente meglio di loro però comunque potevi anche meritarti il pareggio ecco, ma ampiamente poi l'andata di Coppa Italia appunto che questo si sta parlando del ritorno lo sapete lo sapete come l'è andata una delle partite più con il risultato più bugiardo che abbia mai visto in vita mia perlomeno per quanto riguarda la Fiorentina ho visto la conferenza stampa di italiano tra cui qualche domanda un pochino di merda un pochino così però vabbè quelle ci sono sempre da parte di qualche giornalista ogni tanto fa delle domande un pochino così italiano giustamente ha detto solo cioè essenzialmente quelle due o tre cose ovvero noi faremo il nostro giocheremo il 100% anche qualche giocatore sui social si è espresso dicendo comunque che daranno il massimo perché sentano sanno quanto è importante per Firenze sanno quanto è importante comunque in generale per la piazza per come l'è andata l'andata quindi comunque per rifarsi nel caso italiano poi essenzialmente in conferenza stampa ha detto quelle cose importanti ci dispiace per Castro che poi appunto abbiamo saputo che se avete visto insomma le notizie alla fine non è stata solo una lussazione ma proprio una rottura del legamento quindi probabilmente Castro non ci sarà anche per probabilmente metà della prossima stagione quindi sarà un recupero lunghissimo perché molto probabilmente nel mezzo ci andrà anche un'operazione chirurgica quindi forza Castro siamo con te ci dispiace essenzialmente a tutti non perché comunque magari eri un giocatore in forma in questo momento e che era essenziale per il nostro gioco anche per quello ma perché comunque sappiamo che ci tiene alla maglia sappiamo il valore insomma tuo di persona oltre che al giocatore quindi forza riprenditi presto speriamo appunto di rivederti in campo più forte di prima e a proposito ragazzi parlando di centrocampo arriveremo a giocare questa partita un pochino con Tati perché anche in conferenza stampa gli è stata chiesta a italiano ma Buonaventura ma Odrio Zola cosa si fa cosa ci sono non ci sono cosa fanno essenzialmente senza far troppi di parole ci saranno però non saranno in campo e molto probabilmente non lo toccheranno neanche saranno in panchina saranno comunque convocati però non vedranno il campo 99 su 100 perché comunque non sono ancora in condizione di poter reggere anche pochi minuti comunque di una partita importante che conta tanto per la piazza quindi giocheranno venuti e ovviamente al posto di Odrio Zola al posto di Buonaventura bisognerà vedere perché avrebbe giocato di sicuro Castrovilli ma con questo problema in più adesso a centro campo siamo effettivamente contati molto probabilmente io penso che giocheranno Malé e Duncan perché essenzialmente sono gli unici rimasti disponibili a fare quel ruolo oppure magari italiano potrebbe inventarsi che in realtà non è un'invenzione ma è un vecchio ruolo con cui giocava a Verona un Amrabat Mezzal perché effettivamente quel ruolo l'ha già giocato a Verona quindi non è proprio un ruolo inedito per lui potrebbe essere una possibile soluzione ma effettivamente a centro campo siamo quelli all'inizio della stagione sarà veramente tanti troppi e infatti si è fatto una bella scrematura adesso siamo veramente contati con queste due con questi due infortuni importanti appunto di Buonaventura e Castrovilli a centro campo in attacco bisognerà vedere se italiano confermerà appunto il tridente Icone Gonzales e Cabral penso comunque di sì perché sono entrambi cioè tutte e tre comunque in forma usciti bene dalla partita contro il Napoli contro il Venezia hanno giocato bene comunque tutte e tre soprattutto Iconei Iconei mi è piaciuto tanto nonostante non è riuscito a incidere ma quel benedetto palo magari che se va dentro è un'altra partita insomma è non sofferta in quella maniera quindi comunque tre giocatori in crescita e molto probabilmente appunto come ho già detto giocheranno in difesa molto probabilmente anche lì verrà confermato Igor e Milenkovic appunto mi hai detto prima venuti al posto di Derozola e giustamente Biraghi bisognerà vedere se in porta giocherà Terracciano o Dragoschi io penso che comunque anche se lei è una partita di Coppa Italia giocherà Terracciano perché è una partita troppo importante cioè perlomeno per le gerarchie per ora che ci ha insegnato italiano Terracciano è un un titolare che è praticamente inamovibile Dragoschi ormai per 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 gli standard del gioco di italiano è fuori è fuori cioè fuori rosa tra virgolette cioè nel senso è una partita di Coppa Italia sì va bene però è una partita troppo importante dove anche il portiere i piedi del portiere i tempi di gioco del portiere servono tanto e per ora Terracciano ce l'ha dimostrato ci ha dato tanta sicurezza durante le partite io ragazzi non posso dirvi cosa mi sento sinceramente di questa partita perché lo sappiamo tutti è alla luce di tutti si gioca meglio della Juventus la Fiorentina quest'anno grazie a italiano gioca molto meglio della Juventus la Juventus non ha essenzialmente un gioco la Juventus in qualunque partita nelle ultime soprattutto ci ha dimostrato che sì riesce magari a concretizzare facendo quella famosa quel famoso gol anche magari a cazzo di cane subendo clamoresamente dall'altra squadra ma magari riesce sempre a scamparla il famoso cortomuso di Allegri bisognerà stare molto attenti perché hanno degli elementi in rosa capaci di farti male anche con un'occasione sola e rimanere barricate dietro per appunto 95 minuti non si sa tra l'altro chi giocherà in difesa da loro perché anche loro sono abbastanza contati ma sinceramente non mi interessa perché comunque bisognerà che la squadra continui ad attaccare attacchi attacchi di continuo che non si chiuda e non faccia giocare la Juventus ma cioè bisognerà continuare per forza ad attaccare anche con un po' magari di frenesia in più perché tanto sei sotto cioè parti da un risultato sotto all'inizio magari puoi partire un po' più ordinato ma tanto il gioco probabilmente sarà quello la Juventus che ti aspetta e te che tu continuerai ad attaccare perché tanto allora cazzo gliene frega loro primo giocano così secondo hanno un gol di vantaggio quel benedetto autogol di Venuti che se esiste una giustizia divina gli potrebbero non lo dico via non lo dico e niente io io ragazzi non so cosa dirvi se si dovesse passare sarebbe meraviglioso se non si dovesse passare ragazzi non è niente di cioè non è niente di perso ci roderebbe a tutti il culo ci starebbe a tutti così perché lo sappiamo per come è andata l'andata per il culo che ci hanno avuto questi altri merdosi per tutto l'anno e che molto probabilmente potrebbero riavere anche al ritorno discorso diverso se magari se la portassero a casa meritando se lì uno alzerebbe le mani e direbbe va bene dai all'andata abbiamo andata di culo al ritorno ve la siete meritata e voi si è passata però per come sta giocando la Juventus ultimamente e in realtà da tutto l'anno non penso che ci sarà questo enorme cambiamento da così a così in una partita senza motivo niente ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate sotto nei commenti qui c'è la gente se incazza fuori e nulla sempre forza viola non so cosa dirvi io io ci spero ma non facciamo così io parto già sconfitto così almeno non mi aspetto niente però voglio vedere la squadra che lotta e voglio vedere veramente una bellissima prestazione a Torino per dimostrare a tutta tutta Italia in generale perché molte volte quando si parla di Europa League la Fiorentina non viene manco menzionata per sbaglio nonostante ci sia una partita in meno e siamo alle pari delle romane la Fiorentina manco cacata cioè viene magari cacata l'Atalanta che ha comunque una partita in meno o noi ma ha 5 punti di meno rispetto che noi quindi molto probabilmente ancora non hanno capito che ci siamo anche noi lì in mezzo però molto probabilmente la capiranno e speriamo anche da questa partita quindi niente sempre Forza Viola ragazzi e aspettiamo di vedere questo benedetto risultato speriamo bene ciao ragazzi